Sì, benvenuti di nuovo al punto qui nel studio di Telefriuli, oggi parleremo un po' di politica, lo parleremo con il consigliere regionale Franco Iapo, benvenuto consigliere, già presidente del consiglio regionale e adesso lavora anche un po' tra virgolette in Europa perché è vicepresidente di una commissione importante, il Civex, non mi pare che quant'altro ne parlerà dopo, che si occupa di affari istituzionali, cittadinanza, poi ne parliamo. Bene, però ieri c'è stato il congresso del Partito Democratico dove lei è un autorevole esponente, quindi ci riparte da Schaul che tra parentesi già prima ha dato le sue linee. Ripartiamo da un progetto unitario, ripartiamo dalla coscienza che a questa regione non serve ovviamente un dibattito politico che magari sottolineava le persone, quanto invece una proposta e un'opportunità di una forza politica che funga da riferimento relativamente al proprio ruolo, che è quello dell'opposizione, ma che è un ruolo importante e quanto è il ruolo che dovrebbe in qualche maniera essere oggi protagonista di quegli bisogni, di quelle esigenze, di quelle necessità, di quell'ascolto che le comunità richiamano e che noi vogliamo intraprendere, portare in questo momento e riferire poi nel dibattito. La strada che onestamente è un po' smarito, mi pare. Ma quando si governa è chiaro che magari si è presi anche dalla necessità, dalle esigenze, dalla volontà anche di affermare riforme, di affermare un proprio disegno politico. Purtroppo i tempi, i cinque anni, sembrano lunghi ma sono in realtà brevi quando si vuole incidere profondamente anche sul tema delle riforme e in questo senso forse ci è stato anche incolpato, se vogliamo, girando, ascoltando la gente, di una difficoltà di rapporto, di relazione e credo che invece oggi sia importante che nella trasparenza e nella partecipazione aperta ritroviamo quelli che sono invece gli spazi utili al dibattito e al confronto. Ecco, senta, un giudizio sull'attuale maggioranza dopo un abbrivio di 4-5 mesi, una maggioranza che è arrivata in maniera preponderante al governo della regione che adesso è alle prime avvisaglie con problemi straordinari ma anche con un bilancio che fra poco andrenaula, no? Sì, è una maggioranza che credo debba ancora definire fino in fondo quello che è la propria proposta, nel senso che al di là degli slogan che abbiamo ascoltato, di quelle che erano le azioni che hanno intrepreso in campagna elettorale, ancora oggi noi abbiamo azioni che tendono ovviamente a negare quello che è stata l'esperienza dell'amministrazione passata ma che a mio avviso, a nostro avviso, non propongono una dimensione nuova per questa regione o almeno quella che avevano in qualche maniera interpretato il promesso. In questi giorni ci troviamo ad affrontare, ci troveremo ad affrontare in consiglio la riforma della sanità che poi alla fine dopo tutte le riforme il modello e lo schema rimane quello precedente dell'assetto. Oggi c'è stato un attacco abbastanza forte dall'Unione dei Medici, no? Ascoltiamo anche in maniera preoccupata questa espressione da parte dei medici perché se non con i medici con chi dobbiamo fare la riforma della sanità, cioè con chi dobbiamo portare la sanità vicino al cittadino, i servizi, se non proprio con i medici e soprattutto con il sistema di medicina di base che avevamo iniziato come riforma anche noi a ricoinvolgere anche in servizi qualificati e quant'altro. Quindi questo apriamo, domani credo saranno i motivi dominanti del dibattito che si apre domani in consiglio. Abbiamo un bilancio di cui ancora attendiamo di conoscere assi portanti reali perché al di là di alcune operazioni ordinarie ancora non sappiamo dei presunti 300 milioni e più di indebitamento che la Regione intende, ovviamente compatibilmente con il proprio bilancio, con questo non siamo contrari, aprire ma non sappiamo bene dove verranno e in che termini verranno disposti. Manca totalmente quello che doveva essere l'intesa, rinnovata intesa con lo Stato, ci siamo stati accusati di avere svolto un'intesa non favorevoli a questa Regione nella passata amministrazione con i patti del Presidente Seracchiani, doveva tutto essere risolto, in realtà non abbiamo nulla a questo, non si è sbloccato ancora il tema ad esempio del ristoro dell'Imu agli enti locali, anche questo c'è la necessità di un accordo con il Governo, si è fermi ad esempio, si tagliano i fondi alla Fondazione Aquileia e si è fermi, nessuno è andato avanti con il transito del patrimonio. Però l'organizzazione del consiglio va avanti, a proposito, ma come mai lei non ha mai pensato di fare il portavoce? Mi pare che in questi giorni c'è stato un dibattito abbastanza importante su questa figura, che probabilmente mancava. Ma no, non c'è mai stata per il Presidente del Consiglio la figura del portavoce, il Presidente del Consiglio ha sempre avuto la sua segreteria, con il capo segreteria, ha avuto sempre la struttura del gabinetto, cioè di questa struttura più politica relativa con il capo di gabinetto, il portavoce era una prerogativa che ha stata introdotta per il Presidente della Giunta, che è di fatto carica monocratica, rappresentante della Regione e quindi anche forse con un'esigenza particolare di una voce propria nel contesto, quindi di un portavoce. Questa è un'esigenza che il Consiglio si è trovato a discutere su una necessità che la maggioranza ha giustificato e se è stata posta dal Presidente Zanin e che la maggioranza, devo dire perplessa, perché gli interventi che anche da parte della maggioranza sono stati interventi piuttosto perplessi nella poi opportunità che il Presidente del Consiglio avesse un portavoce, stante appunto che il Consiglio lavora in termini collegiali con un ufficio di Presidenza e quindi con una dimensione trasversale, però insomma poi è stata approvata. Noi siamo in attesa di capire quale figura qualificata, ma credo anche necessariamente superparti su una figura che dovrebbe, se porta la voce del Presidente del Consiglio, non è che porta la voce di Pier Mauro Zanin con tutto rispetto ovviamente per la carica e per la persona, ma dovrebbe portare la voce del Consiglio, perché il Consiglio è organo collegiale, non c'è un... e quindi staremo a vedere. Sinta, tornando un po' al Congresso del PD, voi sarete in qualche modo, cerchete di fare l'alternativa vera alla Lega, che in questo momento ha l'egemonia del centrodestra, o avete un occhio molto attento anche ai 5 Stelle? Ma noi siamo ovviamente alternativi, perché così ha deciso il voto del 29 aprile, siamo alternativi ovviamente al Governo e quindi alla Lega, che è la parte direi ampiamente preponderante della maggioranza del Consiglio, siamo alternativi alla Lega anche, soprattutto perché la Lega ha caratterizzato quello sì, questi mesi di Governo, anche con alcune decisioni che sono chiaramente ideologiche, ritorno sul tema della residenza ai 5 anni, ad esempio per l'edilizia sovvenzionata ed agevolata, laddove di fatto addirittura per chi condivide l'opportunità di un alloggio in termini di investimento assieme a imprese, locali e territorio, c'era anche il parere negativo su questo, ad esempio del lance e della stazione degli artigiani, cioè posizioni ideologiche o quello che troviamo in questi giorni circa il contributo per i bambini sugli scuolabus, dei costi dello scuolabus o del trasporto scolastico, insomma in questo caso si cerca di colpire in maniera così indiscriminata sui presupposti ideologici. Poi la Lega oggi anche al Governo nazionale rappresenta realmente una posizione che noi riteniamo non coerente con le necessità, con i bisogni di una comunità che deve essere aperta, relazioni, relazioni internazionali, nel contesto internazionale rispettata, ovviamente anche nella logica di chi rispetta poi condizioni e momenti in cui siamo chiamati. Ecco, senta, la stazione internazionale, lei ha una carica importante in Europa, perché è vicepresidente di questo organismo, il Civec, che adesso ci spiegherà che cosa fa, e qual è il clima che si respira in Europa sulla situazione italiana? Perché un conto si interna dei giornali, un conto si internazionale dei protagonisti, ma da un esponente regionale è interessante capire. Beh, io sono membro per conto dei consigli, del sistema dei consigli regionali del Comitato delle Regioni, che è l'istituzione di rappresentanza delle autorità locali e regionali in Europa, una sorta di terza Camera europea dopo la rappresentanza appunto dei governi e del Parlamento. in questa sede il mio gruppo, a quale appartengo, che sono gli associativi democratici europei, mi ha indicato la vicepresidenza di una delle commissioni in cui si articola questa struttura, della commissione che si occupa appunto delle relazioni esterne e anche delle relazioni e delle competenze istituzionali. Dal senso, proprio in questi giorni sto anche producendo il rapporto per il Comitato sulla comunicazione della commissione di metodo all'allargamento dei paesi dei Balcani. Parco la Serbia, no? Mi pare che lei... Certo, abbiamo lavorato, poi io appunto coordino anche il gruppo di contatto con la Serbia. Sono temi importanti perché verso questi paesi dobbiamo avere un occhio aperto e una responsabile relazione. Poi non sono tempi immediati, ma appunto relazionandoci possiamo arrivare anche a questo. L'Europa ci guarda in termini, devo dire, perplessi e preoccupati. Noi siamo un paese fondatore, noi siamo un paese grande, non siamo un paese marginale, del quale magari ci può attendere anche posizioni e comportamenti che sono al limite. Io posso solo che portare una delle espressioni che il primo vicepresidente della commissione, Franz Timmermans, proprio l'altro giorno in un incontro che abbiamo avuto, ha condiviso con un po' tutti. Dice, è impensabile che un paese così importante, così grande, un paese fondatore, decida deliberatamente di violare le regole che tutti hanno, come in un condominio, e poi dopo aver deliberatamente presentato un documento che viola tutte queste regole, dica, vabbè, ma adesso mettiamoci d'accordo. Se ci sono delle esigenze, si dice, dimostriamo come, con i vincoli che ci sono, non riesco a soddisfare alcuni bisogni e su questi magari troviamo la strada. Dunque c'è un po' di preoccupazione. C'è molta preoccupazione, perché appunto anche una procedura di infrazione comunitaria verso un paese come l'Italia non passa come un'azione che non ha poi ricadute e riflessi su tutto il sistema europeo. Noi siamo la seconda potenza industriale, siamo un paese fondatore, siamo un paese importante e non possiamo giocare nei termini di credibilità e di condivisione di quelli sono i principi fondanti dell'Unione Europea. Invece in questi giorni stiamo proprio facendo ciò, cercando poi di mercanteggiare alla fine, quasi come qualcuno ha detto, il mercato dei tappeti, dei suc. Non è così che si comporta un paese leader in Europa. Ecco, Sinta, ma la politica così del confronto, così tanto sbandierata ai tempi del Presidente Moro, dovrebbe essere un po' anche nelle vene del nuovo PD e quindi anche di voi amministratori di quella parte istituzionale. Riuscite ad avere questo confronto oppure è molto difficile? Beh, oggi direi che il dibattito politico è molto arroccato su posizioni di conflitto legate alle posizioni dei leader, legato anche a questo liderismo e quindi a questa necessità di protagonismo quasi individuale, a cui non si parla neanche più dei partiti, non si parla Salvini, Di Maio, Renzi. Ecco, io credo che dobbiamo recuperare molto della saggezza di Moro in questo, quando da leader di un partito che era veramente un partito che poteva anche affermare con forza delle posizioni faceva prevalere la logica di una responsabilità più condivisa, più diffusa. Una comunità complessa come la nostra non può essere governata per slogan o attraverso l'idea, seppur illuminata, di un leader ma deve necessariamente trovare nella concertazione e anche nell'apertura di ascolto e di confronto i termini per recuperare una conduzione più propria. Io credo che il messaggio che è uscito ieri dal Partito Democratico e dal Congresso e da parole del nuovo segretario Sarlui c'è proprio questo. Bene, allora con queste considerazioni del consegnere Jacop, naturalmente buon lavoro in Europa e anche qui in Regione, io chiudo questa chiacchierata molto interessante, lo invito a tornare a trovarci naturalmente quando avrà magari qualche notizia sul clima anche, perché mi pare che sta lavorando sul clima, no? Sì, siamo stato relatore del parere sulla sostenibilità, sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e io credo che noi se non affrontiamo seriamente il tema della sostenibilità verso il futuro, ne avremo di problemi con il clima e ne avremo di problemi anche con la nostra stessa condizione di sopravvivenza verso il futuro. Bene, allora torniamo poi ai problemi di ogni giorno, naturalmente io vi do un auguro di buona visione con Telefriuli, con i programmi del pomeriggio e naturalmente alla prossima. Arrivederci.